Buongiorno a tutti, oggi parliamo di l'Homochrome Turquoise, si dice così turquoise? Non lo so, non parlo francese, però fondamentalmente è una pellicola di l'Homography, l'Homochrome, quindi pellicola color shifting, cioè che cambia i colori rispetto alla realtà, rispetto a quello che vediamo normalmente con i nostri occhi. Vi ricordate che ho provato la Purple, che mi era piaciuta tantissimo, la L'Homochrome Purple e la L'Homochrome Metropolis, vi lascio il video qui. Poi è uscito anche una bellissima, devo dire, intervista a me, da parte di l'Homography, sulle pellicole color shifting, vi lascio il link in descrizione. C'è questa collaborazione che sta andando avanti con L'Homography, sono addirittura stato coinvolto nella giuria del concorso di L'Homography, dell'Homography Award, questa cosa mi fa davvero piacere, sono lusingato veramente. Vi lascio anche quello in descrizione del concorso, credo che a breve dovrebbero uscire i risultati, insomma i vincitori. Ma tornando a noi, alle pellicole color shifting, vi ho già parlato, ripeto, guardatevi il video su la Purple e la Metropolis, in cui parlo un po' del perché, e anche nell'intervista, insomma, dove do la mia opinione sul perché, sull'utilità, diciamola così, delle pellicole color shifting. Questa tourquoise l'avevo vista, intravista, perché credo che sia una pellicola, diciamo, nuova, ne avevano fatto uscire un pochino, un po' di tempo fa, credo per prova, non ho capito, ma adesso, insomma, sono uscite in un buon numero e, e devo dire, è molto particolare. Se la Purple era strana, questa è ancora più strana. Io credo di non averle reso tanto, diciamo, giustizia a questa pellicola, perché, allora, vabbè, ho scattato con questa macchina qui, con la Canonet, Canonet, questa è una gran macchina, Canonet QL17, anzi, G3 QL17, ovviamente su questa pellicola in direzione non si vede tanto, perché è una pellicola a 400 ASA, in realtà è una pellicola che loro danno tra 100 e 400 ASA, non ha il codice di X sopra, quindi va impostata a mano la sensibilità, ho chiuso a usare un esposimetro esterno, ovviamente. Io l'ho scattata a 400 per, diciamo, sottoesporla leggermente in modo da far risaltare un pochino i colori. Forse non ho fatto la cosa giusta, ho visto che nelle foto in cui c'era tanta luce comunque rendeva un po' di più, quindi è possibile che scattando la 200 ASA forse avrebbe reso meglio. Ma il vero problema di questa pellicola, come di tutte le pellicole color shifting, problema, chiamiamolo così, però punto, ecco, chiave per l'utilizzo di queste pellicole, secondo me, è il sapere quali sono gli shift di colori. Ne ho già parlato, io non amo particolarmente la casualità nella fotografia, di questo magari ne parliamo in un altro video, ma in generale appunto credo che noi dobbiamo mettere del nostro nella fotografia e quindi sapere in che modo viene modificata l'immagine aiuta, anzi diventa anche una cosa utile proprio per allenare la mente a vedere i colori, come ho già detto. Di questa pellicola, essendoci poco in giro, poche foto in giro, non avevo ben capito il modo in cui cambiassero i colori. Quello che succede con questa pellicola è che i blu, gli azzurri diventano arancioni, tutta la parte, diciamo, giallo-arancione invece diventa turchese, o blu, o blu non ci arriva quasi mai, diciamo. Questo cambio di tonalità così forte, secondo me, va accentuato nelle foto. E quindi, ecco, magari scattare dei bei paesaggi in cui anche il verde, se non sbaglio, diventa... Ma adesso vi metto degli schemi qui, perché ho fotografato situazioni in cui sono riuscito ad avere anche la foto normale, diciamo, scattata con la digitale, proprio perché volevo vedere in che modo cambiava. Ve le metto. Secondo me, per accentuare questi cambi, bisogna scattare, ad esempio, con un bel cielo blu, magari un bel prato verde, ok? In questo modo, secondo me, si accentua di più. Il giallo, se voi trovate qualcosa in cui c'è del giallo e del blu, sarebbe la cosa migliore. Ad essere trasformato in turchese sono anche le tonalità della pelle. Ora, io non ho scattato ritratti, mi sono accorto, quindi, diciamo, non ve li posso far vedere, ma di questo, insomma, avevo trovato qualcosina, fondamentalmente vengono un po' dei puffi. Questo per farvi capire. Però, non color puffo, non il classico blu puffo, ma questo color turchese, Tiffany quasi, direi. Vi lascio, ecco, capire un pochino quali sono queste trasformazioni, perché secondo me, avendole chiare in testa, si può fare qualcosina di più, stando un pochino più attenti, io devo dire la verità, ho messo la pellicola dentro questa macchina, perché questa macchina ho potuto averla sempre con me, e quindi quando ho potuto ho scattato. Questo, secondo me, non è il miglior modo di scattare con queste pellicole, bisognerebbe un pochino ragionarci un po' di più, magari addirittura portarla, quando si sa che si scatteranno un determinato tipo di foto, dove si potranno incontrare questi contrasti di colori, che appunto vogliamo che siano modificati. Vi consiglio di farlo e magari di prendere spunto da questo video e dallo schemino che vi do io per lo shift di colori, proprio per andare a cercare situazioni in cui sfruttare al meglio questa pellicola. In ogni caso, quelle due o tre foto che, diciamo, alla fine purtroppo, per caso, o meglio, io ho cercato di molte situazioni varie, in realtà mi sono accorto che la maggior parte le devo aver scattate quando il cielo era un po' coperto, quindi non c'era il blu del cielo, e quindi fondamentalmente sono delle foto verde scuro, ecco. E questo è un po' un peccato, perché sono quasi delle foto in bianco e nero in cui c'è un viraggio verde, tendente leggermente al verde o al turchese scuro, ecco. Questo appunto è un peccato, invece, nelle foto in cui avevo tanta luce e che avevo addirittura il cielo blu, c'è una in cui avevo delle pozzanghere che riflettevano dei colori, e lì c'è un bel gioco, insomma, tra l'arancione nel cielo, l'azzurro sotto, insomma, queste sono le situazioni che, secondo me, vanno ricercate con questa pellicola. C'è poi da dire, ricordare che questa è una pellicola color shifting, ma ovviamente ha un suo bilanciamento del bianco ed è una pellicola pensata per la luce del sole. Cosa succede? Ecco, qui quando andiamo a scattare con luce artificiale, qui all'interno di una chiesa, una luce uni molto calda, succede che ovviamente il giallo, cioè l'arancione dominante della luce calda, va a diventare tutto turchese. Questo, insomma, va ricordato, ecco, perché è più difficile ottenere, insomma, tutta la gamma dei colori a disposizione di questa pellicola. Spero che questo video possa esservi di aiuto, appunto, nello scattare se volete provare questa pellicola, che io comunque consiglio perché, ripeto, questo tipo di fotografia secondo me ci fa crescere e soprattutto ci può portare a interpretare in un certo modo alcune situazioni, la luce e determinati soggetti che altrimenti potrebbero passare quasi inosservati. giocando con questi shift di colore secondo me invece gli si riesce a dare un'importanza o addirittura a far soffermare attraverso magari lo shock iniziale dello shift di colore possiamo arrivare a far concentrare di più chi guarda o anche grazie allo shift di colore evidenziare alcuni particolari che altrimenti non sarebbero evidenziati passerebbero, dico inosservati ma magari non se ne capirebbe il significato. Questa cosa secondo me è il modo, questo ripeto, di usare questo tipo di pellicole. In descrizione vi lascio il link anche per acquistarla insomma sul sito di Lomography che ringrazio ancora per avermi mandato questa pellicola da provare. Mi raccomando, voglio sapere cosa ne pensate di questo tipo di pellicola in generale ma in particolare di questa Lomochrome Turquoise di Lomography Mi raccomando, nei commenti se avete domande ovviamente scrivete pure rispondo volentieri se sono in grado di rispondere. Quindi grazie mille di avermi ascoltato come sempre buona fotografia e alla prossima. Ciao ciao!